Proponiamo che possa essere acquistato da banca intesa un palazzo importante, enorme nel centro della città che è il palazzo Foscherini che è in piazza Remitani, c'erano già delle trattative con il comune è attaccato al Pollini, creerebbe quella isola culturale e musicale a livello internazionale che potrebbe dare un respiro enorme a Padova anche dal punto di vista economico perché la cultura è una cosa bella, però in questo caso saremmo a livello delle più grandi città europee Questa è la proposta di Padova Benecomune, tramontata l'idea di un auditorium nell'area dell'ex caserma pandina la soluzione potrebbe essere trovata proprio vicino al conservatorio due, le realtà di livello internazionale che nella città del Santo hanno sede Abbiamo bisogno perché la musica è un pezzo importante della nostra vita, al di là di come uno la pensa è una parte importante anche dell'economia della città è perché questa città ha due importantissime orchestre l'orchestra di Padova e del Veneto, di cui è vicepresidente il senatore Giaretta e l'ex orchestra di Scimone, i solisti veneti due orchestre che hanno una valenza internazionale Un'idea che potrebbe essere sostenuta anche dai padovani Per questo è stata lanciata l'idea di una campagna di finanziamento su internet Come Padova Benecomune noi chiederemo, faremo tutta una serie di iniziative per informare la gente faremo un banchetto in piazza, faremo delle cartoline da inviare ai cittadini da fare sottoscrivere ai cittadini alcune petizioni ma la cosa che vorremmo fare, se il comune ovviamente ci dà a un interesse è quello di fare una raccolta fondi per chiedere ai cittadini guarda, è una cosa che a me interessa ci voglio dare anche un euro del mio stipendio, dei miei risparmi per dire che la cultura, la musica è una cosa importante e come Padova Benecomune cerchiamo di sollecitare i cittadini ma anche e soprattutto la politica che è la grande assente, la politica cittadina dalla scelta da fare su un tema così importante e così rimandato nel tempo